come ti chiami? tutto quanti anni hai? mezzo e mezzo che vuoi fare da grande? Fulvio perché? perché Fulvio e lei? Domenico che ti piace di lei? il pompiere allora falle una carezza falle una martina e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 dai 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 e la posso dare sulla bocca o sulla guancia e ora qualcosa di completamente diverso ciao 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 ciao